Penna e Castelfranco che quasi per coincidenza vengono entrambe dallo stesso girone, dal girone C di seconda divisione dove attualmente il Penna sta lottando per le fasi alte della classifica mentre il Castelfranco è in ottava posizione diciamo non ha più niente da chiedere alla classifica e allora si può partire, iniziata in questo momento Castelfranco-Penna, finale della Coppa Amatori seconda edizione la fischia l'arbitro, parte D'Agostino, la palla è dentro, è buona per il destro, provato da Cicali e allora Benedetti prova il rinvio ma c'è D'Agostino che va al destro da lontano, la gran prata di Albizzi attenzione ad Agostino sulla sinistra per Gimelli ancora una volta Gimelli, il traversone dentro, il sinistro di Cicali ci sembra ancora in pressing comunque il Castelfranco, Cicali buono lo stop, prova a girarsi Cicali c'è sua sinistra, liberissimo Gimelli si ne va Gimelli, prova il pallonetto, traversa traversa di Gimelli altra occasione per il Penna fischia Pucci e allora parte Ricci il suo destro, gran parata di Furiesi che si distende alla sua destra e mette fuori Castelfranco che rimane comunque in zona offensiva D'Agostino finta il sinistro e il gol il vantaggio del Penna la finta il sinistro a giro al tredicesimo arriva il vantaggio del Penna con la rete del numero 38 quindi proprio Gimelli attenzione intanto abunizione di Nuti, traversa la traversa di Nuti Nuti battuta questo calcio di punizione arriva in questo momento palla dentro di Nuti e il gol e arriva il gol di Nuti il gol di Nuti al ventiseiesimo il gol di Nuti il suo sinistro sulla calcio di punizione sembravano arrivarci si aspettavano difensori un colpo di testa da parte o di Bernicchi o di Bernicchi o di un altro giocatore come testa che non è arrivato la palla che ha ingannato il numero 1 Albizzi e ha portato il Penna sul 2-0 prova a liberare la zona adesso il Penna attenzione altra versione dentro il colpo di testa che non arriva Neri il suo destro fuori ci ha provato il Castelfranco con Neri